Muio Week è un'iniziativa che vuole promuovere e incentivare uno stile di vita sano fondato sul movimento. Sappiamo tutti che viviamo una vita che per un verso è frenetica, ma per l'altro verso riduce il tempo nel quale si possa dare al corpo la possibilità di muovere e quindi si riduce in qualche modo anche la capacità di proporre al nostro corpo occasioni di movimento utili alla salute. Sappiamo bene che muoversi, camminare, passeggiare, correre, salire le scale, tutto questo ha un effetto positivo sul nostro corpo e sulla vitalità del nostro organismo. Per questo Muio Week raccomanda in questa settimana di dare luogo a tutte le pratiche quotidiane di vita che possano consentire una maggiore capacità e agilità di movimento con la speranza naturalmente che tutto questo non si realizzi soltanto per una settimana ma diventi un'abitudine di vita per ciascuno di noi.